Entro il 2019 la Toscana dovrà avviare una strategia per le aree interne che coprono il 72% del territorio e su cui vive il 30% della popolazione, dal Casentino alla montagna Pistoiese, alla Garfagnana fino alla Lunigiana, solo per citarne alcune. Lo ha detto il presidente Enrico Rossi e i sindaci in un convegno a Firenze sul futuro delle politiche di coesione per le aree più fragili, per l'accessibilità a servizi come sanità e istruzione e in cui il calo delle nascite è più marcato. Entro il 2023 i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea dovranno essere usati in rendi contati e dovranno essere preparati progetti specifici. Nel corso del 2019 questa strategia per le aree interne farla diventare a tutti gli effetti una strategia della regione e in questo modo chiedere all'Europa, come io ho già cominciato a fare, che ci sia una riserva di finanziamenti per queste aree, così come facciamo i finanziamenti riservati per le aree metropolitane. Io mi sono battuto in tutti questi anni perché le aree interne accanto alle altre aree siano considerate come aree meritevoli di specifici ulteriori finanziamenti. Investire nelle aree interne, spiegano i dati di IRPET, porterebbe vantaggi a tutto il territorio regionale. L'area interna è da protagoniste passive, come vedevamo fino ad oggi, diventano protagonisti attive e quindi un intervento nel loro favore, contributi, interventi, sostegno a quelle aree fanno bene al benessere dell'intera comunità toscana.